Oh, get out of here with that, and don't come back no more. Oh, get out of here with that, and don't come back no more. Ehi, guardate, nuove vittime! Ciao, Jessie! Ciao. Il nostro abbigliamento è piuttosto informale, come puoi vedere. Ciao, Jessie! Conosci Annie Annie? Vuoi entrare nel nostro club? Certo. Allora dovrai toglierti i vestiti dall'altro lato della piscina, sul trampolino. Dove potremo ammirarti? Lo fanno tutti la prima volta. È la regola. Già, io l'ho fatto l'anno scorso. Ci stai? Ok. Ragazzi, c'è lo spogliorello! Facci vedere! Dai, poi ci fai le abitudini! Non la faccio in mano! Dai, è toccato a tutti! Avanti! No, no, no! Non ti preoccupare di Sandy, è il mio fratellino. Se ti tocca il sedere, lo mando subito a letto. Si flette, spero di non cadere in acqua. Tranquilla, ti aiuta a Sandy. Non ti preoccupi a막are... Non ti preoccupiasci? Non ti preoccupi, sei al prima vuole... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.